La CGA di Mestre propone la sua analisi settimanale concentrandosi questo sabato sulla crescita delle regioni d'Italia. Queste in termini di PIL presentano distanze millimetriche tra loro ma i dati ci consentono di stilare una classifica che vede al primo posto la Lombardia che nel 2023 trainerà il prodotto interno lordo con una previsione di crescita dell'1,29%. A seguire la nostra regione con un più 1,24% e il Trentino Alto Adige staccata di pochissimo, in fondo alla classifica Campania, Molise e Basilicata. Tra i settori che consentiranno al Veneto di rimanere sul podio della crescita economica le costruzioni e i servizi, in particolare il turismo, a livello provinciale medaglia d'oro e d'argento rispettivamente per Venezia e Verona che registrano una crescita in quest'anno dell'1,85% e dell'1,76% mentre al terzo posto troviamo Belluno che si attesta su una percentuale di 1,42%. Tra il 2019 e il 2023, commenta il coordinatore Zabeo, il nostro paese e conseguentemente anche il Veneto hanno registrato un livello di crescita nettamente superiore a quello registrato dai principali paesi europei nostri competitor. In Francia la crescita del PIL si è fermata all'1,2% mentre in Germania è stata solo dello 0,3%. E sempre rispetto al 2019 le province venete che nel 2023 devono ancora recuperare quanto perso di PIL nel 2020 a causa principalmente del Covid sono Venezia almeno 3,6% e soprattutto Belluno almeno 5,43%. Tutte le altre invece hanno recuperato abbondantemente. La nostra provincia ha sofferto particolarmente gli anni di pandemia dato che tra le 107 province italiane monitorate dall'ufficio studi della CGA, solo Firenze, che registra un meno 10,04% presenta in questo intervallo temporale una flessione superiore a quella registrata da Belluno. Non è da scudere comunque che la ripresa autunnale ci possa riservare delle brutte sorprese. Tuttavia siamo fiduciosi perché il tessuto economico del Veneto, costituito prevalentemente da piccole imprese, ha dimostrato in questi ultimi anni così difficili di avere nel suo DNA gli anticorpi necessari per superare con successo qualsiasi avversità.